...un crimine organizzato sempre più apprezzato, quindi questa inchiesta vi mostro, perché riuscire a seguire in diretta, perché di questo parliamo, un'attività istruttoria, perché ancora c'è in corso un pezzo importante di questa indagine, intesa di individuare basisti e committenti, perché come dal comunicato stampa avrete mogli a pensare che non si è proceduto al porto di un'autovettura, di uno scooter, ma di mezzi pesanti che hanno un mercato di interesse internazionale.